Ciao a tutti giupini e giupine, manca pochissimo a Natale, infatti ne approfitto per farvi i miei auguri di buon Natale e felice anno nuovo sperando che il 2018 ci porti tanta fortuna, tanta felicità e tutte le cose che desideriamo di più in questo video ci sono i miei auguri e anche gli auguri da parte di tutti i miei canali preferiti dei canali che io ho seguito in questo 2017 e che mi fa piacere farvi conoscere alcuni li conoscete già, altri saranno delle interessanti scoperte perché secondo me sono delle persone molto molto in gamba hanno accompagnato il mio 2016 detto questo, un bacione a tutti quanti, buon Natale e buon anno nuovo alla prossima, ciao ragazzi Ciao a tutti, sono Tati del canale creativo Tati Stinks approfittando dell'atmosfera creata dalla bella nevicata di ieri volevo augurare a tutti voi un buonissimo Natale e un felicissimo anno nuovo a chi dobbiamo fare gli auguri di Natale? alla Giupi Giupi che riesco giusto Giupi ci vabbè Giupi a Giupi 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 Ma Clara, a chi dobbiamo fare tanti auguri di buon Natale? ma Giupi ma Clara a chi dobbiamo fare gli auguri di buon Natale? ma Giupi che riesco ciao Giupi guarda ti faccio anche la musica buon Natale buon Natale ciao a tutti io sono Angel del canale Angel DIY and Beauty e oggi sono qui nel canale di Giupi per augurarvi un fantastico Natale e un felicissimo anno nuovo ringrazio la Giumpina che mi ha inserito in questo video vi mando un bacione un grande augurio di buon Natale Giumpi da Lilletta e Indy che tempismo neanche al cinema tantissimi auguri di buon Natale e buone feste a tutti voi spero che trascorriate questo Natale in compagnia dei vostri cari e in modo gioioso e felice buon Natale giudici tesoro mio per il secondo anno consecutivo sono qui a farci gli auguri di Natale non pensavo mai poi mai che Youtube mi potesse regalare degli amici virtuali così speciali io auguro a te, alla tua famiglia a tutte le persone che stanno vedendo questo video un buon Natale vi auguro che il 2018 sia migliore del 2017 se lo augurano tutti anche le mie rennine io vi mando tanti bacini mi raccomando seguite Giussi perché è bravissima e ancora buon Natale ciao ciao a tutti ciao siamo qua per augurare un buonissimo Natale a tutti voi buon Natale e felice anno nuovo dal nostro canale Betta e Bonny che sono io che è lui Betta sono io e Gatto Alfredo è la guest star del nostro canale tanti auguri a tutti passate delle feste serene e piacevolissime auguri auguri a tutti ciao 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 a tutti io sono Maria Giovanna del canale Mary Jane and Maid e voglio augurare a Giubi e a tutti voi buone feste e anche quest'anno non potevano mancare i miei auguri per te Giussi e per tutti i giubili e le giubili del canale vi auguro un sereno Natale e spero che il 2018 porti per voi tante opportunità per avverare tutti i vostri sogni vi mando un bacione e ci vediamo sul canale ciao 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 a tutti io sono Marta del canale Le ricette di Mami sul mio canale troverete tantissime video ricette tante ricette dolci tante ricette salate ma anche video sulle recensioni libri video sui prodotti terminati del mese video sui preferiti del mese insomma un po' di tutto vi faccio tantissimissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo buone feste a tutti voi un bacione grande grande ciao ciao a tutti io sono Annalisa del canale youtube Le creazioni artigianali di Annalisa ringrazio tantissimo Giupi per avermi scelto per questo video vi auguro a tutti voi un felicissimo Natale e un splendido anno nuovo mando un bacione a Giupi e buone feste a tutti ciao ci vediamo nel 2018 ciao ciao